Il direttore generale del Casoria Il direttore generale del Casoria Fortunatamente c'è stata questa vittoria Ad un certo punto cominciavo quasi a perderci le speranze Poi è arrivato questo colpo dal cilindro di Maione Che sbaglia i gol facili Ma evidentemente oggi ha segnato quelli difficili Dopo 23 anni Da intervistatore ha intervistato Il mondo cambia Non so se è un passo avanti o un passo indietro Comunque al di là di questo Ripeto Stiamo facendo secondo me un bel percorso Dobbiamo naturalmente ancora crescere Mi fa piacere aver inserito in gruppo Anche altri due ragazzi Formato e Zavarese Uno è stato appena tesserato L'altro sarà tesserato in settimana E anche il segnale che in questo gruppo Ci stanno persone che sanno stare nel gruppo Perché abbiamo dei ragazzi Alcuni dei quali come Lucignano Come Paladino Che spesso ha poco spazio E come altri Come altri ragazzi che sono entrati Come Indaco Come Calenda Che sanno stare nel gruppo E questo è importante Perché solo così si può crescere Bisogna saper stare nel gruppo Sapere che ci sono davanti dei ragazzi Che magari hanno più esperienza Ma quando sei chiamato in causa Fare il tuo Come lo hanno fatto questi ragazzi Che nel tempo Non potranno che avere sempre E comunque più spazio Quindi questo è lo spirito Chi sta dentro il gruppo Con questo spirito Ci può aiutare a vincere Altrimenti non potrà far parte del Casoria Qualche parola anche per l'Alba Nuova La società che ci ha ospitato In maniera assolutamente deliziosa No assolutamente Un ringraziamento Alla società Alla Real Alba Nuova Siamo stati accolti benissimo Mi dispiace soltanto Che tra il primo e il secondo tempo C'è stato Diciamo un episodio spiacevole Per il quale In parte c'è una responsabilità Di un nostro giocatore Abbiamo già chiesto scusa Personalmente Ai dirigenti Ma siamo stati accolti benissimo E li aspettiamo Abbraccio aperti a Casoria Anche perché sono cose che succedono Durante i 90 minuti Giusto? Abbiamo avuto questa settimana Un po' particolare Per quello che è successo martedì Parliamo chiaramente di Napoli-Inter Di quel caso Quindi Però succedono in campo certe cose E' giusto che poi tutto finisca Quando l'arbitro fischia Sono cose che non dovrebbero succedere Che quando succedono Restano comunque Nel recinto di gioco A fine gara Come potete vedere Il clima è molto disteso Siamo stati trattati benissimo Da queste società E quindi Va bene così Ripeto Ci dispiace Non dovrebbero succedere Ma tra uomini Finisce tutto qui